I soldi si fanno con il lavoro perché io penso che dobbiamo costruire un'Italia in cui per esempio la tassazione sulla produzione sia inferiore a quella di oggi e la tassazione sui guadagni da finanza superiore a quella di oggi. La radice della ricchezza di un paese sta nella produttività del lavoro, la finanza ricopre un ruolo ausiliario. Se diventa invece la titolare principale delle attenzioni della politica si va incontro a una situazione difficile e in parte la situazione in cui ci troviamo è il frutto di questa inversione sbagliata delle priorità. L'innovazione della Toscana, del PD da dove comincia? Deve cominciare dall'economia, dal modo in cui opera la pubblica amministrazione. Noi dobbiamo essere i nemici più acerrimi di chi vuole il perpetuarsi delle rendite, dobbiamo essere invece amici di chi vuole la rendita del fare, di chi vuole creare imprese, di chi vuole investire nella nostra regione, di chi vuole creare posti di lavoro. La disoccupazione e la povertà aumentano in Italia, aumentano in Toscana, richiedono una svolta alla politica e il tempo del coraggio, delle decisioni forti. Il PD è in campo per questo, per assicurare alle istituzioni la propria visione dei problemi del Paese e un contributo forte in termini di proposta politica. Come si misura la rendita del fare? La rendita del fare si misura vedendo ciò che funziona. Noi per troppo tempo abbiamo considerato la meritocrazia un problema secondario, a cominciare dalla distribuzione delle risorse pubbliche, penso per esempio ai sostegni europei e non soltanto allo sviluppo. Noi dobbiamo unire alla capacità di fare la verifica della spesa, quella di fare la verifica dei risultati, vedere quali sono i settori che trainano l'occupazione, che si battono bene sui mercati nazionali internazionali, incentivare quelli, dedicare a loro l'attenzione delle istituzioni, cercare insomma di premiare ciò che va e di sostenerlo in maniera adeguata. Grazie. Grazie.